Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Vincenzo Pugliese E oggi siamo su Call of Duty World in War Eh Lo dovevo già caricare questo video Solo che si sono cancellati di nuovi salvataggi Quindi ora Lo Lo rifaccio Tanto comunque non è uscito Quindi Posso andare La bautica? Ok vai Ora è budata? Ok Posso Andare Per me sta a sbrinire Ok Che figo Adolo Poco più che salvi Alberi e un piccolo Parli più alto che non ti capisco Sì sì Ciao uomo bello Ciao uomo bello Guarda che le sigarette non si mettono in bocca alle altre si fumano Sì è volate E ho scartato la culo Sì è bello guarda che quella è una pistola non è un fucile ah ho capito con il triangolo posso cambiare arma che sfizio non ho questo vai ci voglio tu dovevo sparare vai ci sono 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 no non a il gioco vado avanti con questo ho scambato dalla mia granata ciao che che sfide chi va succedere ora li faccio vedere collega controllo è troppo poterissimo mi hanno fatto toglie il culo vai 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 qui senza paura vai va da aha c'è classe c'è classe c'è 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 Grazie. 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 Grazie.